Ben trovati a Sport News. Si ripropone con un supplemento di impegno e di spettacolarità la 45esima marcia dei due ponti Memorial e Deccio Beni, che si disputerà domenica 6 agosto con partenza alle 9.30 da Pontile di Fiuminata, sul percorso di 12,5 chilometri. Impegno e spettacolarità sono correlati con il ripristino della dura salita all'interno dell'abitato di Pontile. Alla competizione è abbinata a una passeggiata ludico-motoria, per cui sono previsti un itinerario di 2,2 chilometri e premi per i primi 5 classificati di ogni categoria. La giornata avrà come ospite d'onore Michele Didoni, che nel 1995 in Svezia ha conquistato il titolo di campione mondiale della marcia di 20 chilometri. Venerdì scorso festa per la promozione in serie C1 di calcio a 5 della società Tre Torri Sarnano. Tutta la società al completo è stata ricevuta nella residenza municipale dal sindaco e dall'amministrazione comunale. Il presidente Maurizio Fogante guidava la delegazione con la prima squadra vincitrice del campionato, con loro anche l'allenatore Mauro Monaldi, le squadre giovanili e il direttivo sociale. Hanno accompagnato la squadra ovviamente tanti genitori, soci e simpatizzanti. Con quest'ultima notizia è tutto anche per questa edizione odierna del Tg, grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.